Il latte dolce sconfigge la concorrenza delle squadre laziali e acquista la giovane promessa Fabrizio Ferrari. Classi 2001, il calciatore romano, prodotto del settore giovanile del Frosinone, arriva fresco dall'esperienza della bislovena. Quindicesima pedina dello scacchiere bianco celeste è un difensore naturale, che riesce a svariare su ogni posizione del settore arretrato, in particolare da esterno, dove esprime il massimo delle sue potenzialità. Ambidestro, lungimirante sul piano tattico, buona corsa ed utile nell'adattarsi ai moduli proposti dal mister. Soprattutto dispone dell'umiltà e dell'ambizione necessarie per accettare la sfida lanciata dal team del latte dolce. Squadra che, lo dimostrano le statistiche e il loro eloquente minutaggio della scorsa stagione, punta su un organico giovane. Ferrari mira al grande giro e, pur senza manifestarlo con dichiarazioni altisonanti, ambisce al salto di qualità che la squadra ha quasi raggiunto nel campionato trascorso, arrivando a sfiorare la promozione. Sintonia immediata col mister Stefano Udassi, che da lui si attende un veloce affiatamente coi compagni e l'adesione alla sua filosofia di gioco. Devo essere sincero, sarebbe molto bello vincere, ma non facciamo voli pindarici e rimaniamo ben ancorati alla terra. Io da parte mia vi impegnerò ancora di più per raggiungere i traguardi prefissati. Spero di dare una mano con questa squadra e non vedo l'ora di iniziare la stagione, ha dichiarato Ferrari.